Ho ancora due anni di pazienza e potrò andarmene da qui. Marie Yvonne è una ragazza diversa dalle sue compagne. Ehi, ma chi si credono di essere? Uno di voi metta a posto, saranno guai. Gli F4 sono uniti e prepotenti. Ti prego Thomas, perdonami, è stato un incidente. No, questo non significa niente. Voi pensate di essere tipi in gamba, ma non siete nulla senza i vostri genitori. In Prima TV, mille emozioni per Marie Yvonne. Tutti i giorni alle 19.10 su IT. Il mondo è strano e corre laggiù Così lontano che non ne puoi già più Cammini piano pensando un po' a te e ai tuoi perché Ti senti sola, più sola che mai In questa scuola di gioia e di guai Ma nel tuo cuore qualcun'ora c'è E speri che Sia vero amore L'amore che dissolve l'oscurità E accende la realtà Un amore che non finirà In fondo agli occhi suoi puoi vedere Per mille emozioni da vivere In queste pagine del destino In uno schieno Non vi potrà mai dividere In un tramonto dorato Un bacio rubato Che toglie il piatto Che toglie il piatto e poi Si scioglie in un abbraccio fra di voi Mare e poi Mille emozioni per Mare e poi Un destino a po' Mille emozioni per Mare e poi Grazie a tutti.